Musica Chino, prima del corteo storico, giusto? Vabbè, ma a me... Scusami, tu sei il capo... Il presidente? Il presidente, no, il capitano Capitano, dai, fa il brindisi, capitano Sine Metu Sine Metu Sine Metu Gura c'è giù per male Gura Degno, degno Raccontaci chi è Istoria Istoria è un'associazione di rievocazione storica Nata nel 2003 Si occupa da vent'anni, l'anno prossimo ormai Di ricostruzioni filologiche Quindi non fate solo il corteo di San Nicola No, il corteo noi lo odiamo Non nello specifico quello di San Nicola In generale I cortei sono il peggio della ricostruzione storica e della divulgazione Perché purtroppo hanno anche quell'aspetto spettacolare che in parte... Non solo per quello, anche Ma perché la gente che guarda un corteo vede delle persone che camminano e basta E non sa identificarle E non sanno chi sono Per esempio, tu chi sei in questo momento? Non sarei un nobile longobardo, ma nessuno del pubblico potrà mai saperlo se non glielo dico io E' un cartello dietro, nobile longobardo? Potrebbe essere un'idea Che dici? Come le bandierine dei giapponesi Qual è l'evento, la ricostruzione di cui siete più fieri rispetto a quelle che fate? Ce ne sono due che organizziamo noi E' stato Castrum Medunei lo scorso anno nel centro di Modugno La ricostruzione storica della vita cittadina del 1070 In onore del millenario della fondazione della città L'altra è Medievalia Che è un format che portiamo in giro nei castelli pugliesi e non In cui ricostruiamo scene di vita quotidiana, castellare, militare e soprattutto civile con artigiani E spiegate cosa state facendo C'è una voce narrante che dice C'è una guida che porta turisti e scolaresche Però il corteo di San Nicola, il corteo di San Nicola Non si può non esserci No, non si può non esserci in ogni caso Però il cartello dietro la schiena, secondo me E' vincente E' vincente, anche perché per esempio gli ebrei hanno quel simbolo qui Che spesso è nascosto dal vestito e non si capisce Si capisce, vero? Quindi istoria Istoria E dove vi troviamo? Avete una pagina? Abbiamo una pagina Facebook, istoria Bari Abbiamo un sito www.istoriabari.it Che è in costruzione, in ricostruzione dopo tanti anni Quindi se andate e non lo trovate, abbiate paziente, ritornate e lo troverete nuovamente C'è proprio la pagina, la landing page in cui c'è scritto che ci stiamo arrivando, ci stiamo tornando A istoria Alla vostra E dai, e non mi lascia le soldi Tu scusami, sei Longobardo o Bizantino? Longobardo o Bizantino La mongi e la pongi, capito? Così si abilitano, facciamo un brindis pure con il Longobardo O no, Bizantino Tino è già una, no? È la terza, quindi Eh vabbè, e brindiamo Di nuovo Tino è già un po' sempre, però Oggi è male